Da lunedì 10 gennaio ripresa delle attività anche negli Atenei abruzzesi. All'Università di Teramo per le lezioni ed esami si continuerà a utilizzare la modalità mista, ovvero in presenza per quanto possibile online dove necessario. Come facilmente prevedibile, l'aumento dei contagi da Covid comporterà un altrettanto grande aumento dell'utilizzo della modalità da remoto. In vista della ripresa delle attività, il Ministro dell'Università della Ricerca, Maria Cristina Messa, ha inviato a tutti gli Atenei una nota in merito allo svolgimento delle prossime prove. In particolare, pur rimanendo valida la disposizione del Decreto Legge del 6 agosto 2021, per la quale le attività didattiche e curriculari dell'Università sono svolte prioritamente in presenza e tenuto conto dell'attuale evoluzione del quadro epidemiologico, il Ministero ha previsto che in via del tutto eccezionale, laddove non sia possibile garantire la presenza, le università potranno prevedere lo svolgimento con modalità a distanza delle prove, delle sedute di lauree e degli esami di profitto programmati. Una condizione su cui i rettori abruzzesi hanno deciso di proseguire in modalità mista. Lunedì mattina, dichiara il rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, mi incontrerò con i presidi per comunicare questa decisione. Noi rettori abruzzesi abbiamo deciso di continuare come stiamo facendo adesso. Gran parte delle lezioni rimaste le continuiamo in presenza. A chi ce lo chiede daremo una deroga per collegarsi online. E lo stesso discorso vale per i docenti. Prevediamo molte richieste. Anche per quanto riguarda le tesi, l'idea è continuare in modalità mista. All'interno della stessa giornata si farà sia una seduta online che una in presenza.